Un successo voluto, cercato e assolutamente meritato. In questi aggettivi i vari motivi della roboante vittoria del San Giovanni sul San Donato nella finale playoff regionale. Il 4-1 finale è espressione di una superiorità costante esercitata dal Marzocco che avrebbe potuto concedere la riapertura solo e soltanto su una disattenzione a seguito del 3-1 ma per il resto i confronti a centrocampo come sulle fasce sono stati tutti vinti nell'arco dei 90 minuti dai ragazzi allenati da Marco Coppi. Una rivincita importante dopo le quattro sconfitte consecutive con il San Donato in campionato grazie anche ad un supporto costante della tifoseria che ancora una volta è in circa 700 unità a invaso il Torrini di Sesto Fiorentino. Un'altra prova dunque fisica, tecnica e muscolare insomma in vista dell'impegno interregionale con l'avversario laziale ancora da capire. Gli inviati allo stadio del Montero Tondo Lupa e del Terracina sono usciti dal campo con la consapevolezza che passare in finale non sarà semplice. Casomai c'è da domandarsi come tenere adesso l'attuale stato di forma vista le tre settimane di stop forzato ma questa attesa è inevitabile così vuole infatti il calendario per approdo alla Serie D.